A presto So che la parte 1 non l'avete vista sul canale ragazzi però durante appunto il gioco cercherò in base appunto quello che succederà di diciamo ricordare un po' quello che era successo nel parte 1 e appunto riuscire a capire per andare avanti con la storia Ovviamente per chi non ha mai visto The Last of Us ragazzi è un gioco pazzesco penso che sia il più bel gioco che abbia mai visto è veramente qualcosa di assurdo Allora vi posso solo dire che The Last of Us in confronto a Fortnite è qualcosa di assurdo Cioè a me Fortnite fa cagare in confronto vi giuro e adesso che è uscita la parte 2 del mio gioco preferito non possono portarvela sul canale Molto probabilmente oggi questa sera molto probabilmente uscirà il primo video non ne sono sicura Ho visto i trailer tempo fa so qualcosina ma veramente poco ragazzi 10 ore di gameplay totale che vorrebbe dire circa una ventina di episodi perché raga io farò un episodio di circa 30-40 minuti ogni volta So che molti di voi lo conoscono già come gioco mi raccomando raga dovete vederlo insieme a me perché è qualcosa di assurdo come gioco So che magari a voi non ve ne frega niente perdonatemi se mi sto dilungando ancora tanto ma per favore è importantissimo per me guardatevi con me la serie Potete già andarvela a vedere da qualche altro youtuber mi interessa che veniate a vedere con me la serie perché ragazzi è qualcosa di assurdo Non potete capire quanto sono felice di portarvi questa serie nel canale e quanto sono felice che sia finalmente uscita la seconda parte di The Last of Us Che vi ripeto è uno dei miei giochi preferiti se non il mio preferito Bene ragazzi detto questo non penso di portarlo anche su Twitch perché portandolo su Twitch una parte di storia verrà appunto cancellata da Youtube Perché se la faccio su Twitch non la faccio su Youtube e poi su Twitch non la guarda nessuno Quindi porterò tutta la serie su Youtube Live non le posso fare purtroppo Vedremo come andrà ragazzi Non so più cosa dire io sono stra stra in ansia per questa nuova serie Andiamo a vedere lo shop di oggi ragazzi anche se il video per me mi si può concludere anche qua E' necessario un aggiornamento per continuare Ok Raga What? Impossibile a chiedere perché è disponibile una nuova patch No regà Hanno fatto una nuova patch e io non lo sapevo Ma what? Allora ragazzi il video dello shop lo facciamo dopo Però appunto vi volevo avvisare appunto di questa cosa di The Last of Us che era la cosa più importante del video Mi raccomando non mancate questa sera oppure nei prossimi giorni Dovete assolutamente vedere The Last of Us perché ragazzi Già che ci siamo a sto punto vi racconto un pochino che cos'è Perché gli interessa The Last of Us è un gioco che appunto narra di una malattia diciamo che si è espansa in tutto il mondo Ovviamente neanche a dirlo è fake ma ovvio E praticamente questa malattia colpisce il cervello e ti fa diventare in dei mostri Questi mostri dopo in pratica so che può sembrare una cazzata ok Ma dopo guardando la storia diventa una cosa assurda raga Io vi invito semplicemente a guardarvi i trailer dell'1 e del 2 Ragazzi impazzite Non potete capire l'assurdità di questo gioco, è qualcosa di fenomenale La Naughty Dogs raga ha fatto qualcosa di assurdo Non so appunto quando ci sarà la serie però dovete assolutamente vederla com'è Ragazzi ve lo ripeto per l'ennesima volta È un gioco che mi fa impazzire Quindi dovete andarvelo a vedere com'è Mamma mia ragazzi Non sto più nella pelle Non sto più nella pelle Questa sera riceverò il gioco Molto probabilmente Sicuramente ci farò già le prime parti Penso che ora che faccio tutte le parti mi pre-registrerò 3-4 video Che vuol dire ben 2-3 ore di gameplay Perché ragazzi è qualcosa di assurdo Vi ripeto Fortnite sarà bello quanto volete Ma in confronto ad Era Sovaz fa schifo Ve lo posso assicurare Ve lo posso assicurare tutto quello che volete Poi ovvio che magari a qualcuno può sempre non piacere Perché è molto sanguinoso come gioco Però ragazzi non c'è niente da dire Penso che sia uno dei giochi più belli che abbiano mai fatto proprio in generale Basta ragazzi Mi concludo qui perché vi ho già detto troppo Però che vi sia piaciuto Perdonatemi se è corto e se alla fine non abbiamo fatto niente Però ci tenevo comunque a dirvi questa cosa Venite nel video che ci sarà stasera o in prossimi video E poi ci sarà stasera o in prossimi video Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.